Io raga sono abbastanza senza parole, vi dirò, ma perché... Allora ho sempre pensato che il Napoli stesse facendo male perché i giocatori giocavano contro Ancelotti, ok? E oggi, oggettivamente, cioè il Napoli non ha giocato bene, nel senso, Mertens e Milik si trovano a meraviglia E su questo, insomma, penso non ci piova, tra l'altro ho già fatto un'ora di 4-3-3, gattuso Poi è passato al 4-4-2 perché non andava, però c'è anche il fatto che il Parma gioca, qualcuno dirà Eh, ma signor di controiede, sì, ma il Parma gioca di controiede, il Parma è una squadra che gioca di contropiede Ok, si sa, cioè è classico, il Parma gioca di contropiede Inoltre, un paio di volte Meretta è andata a parare il culo al Napoli perché comunque poteva tranquillamente prendere gol in un paio di occasioni Quindi, boh, oggi mi aspettavo un Napoli vincitore e vincente, se così si può dire Ma in modo agevole, non agevole nel senso 5-0, 6-0, nel senso, attenzione, basti seguire un po' il calcio Per capire che comunque il Parma è un avversario che quando lo affronti non te la porti da casa Cioè che comunque ti fa sudare le proverbiali sette camicie Però quantomeno mi aspettavo che il Napoli alla fine della fiera riuscisse a prendere i tre punti Che il Parma espugnasse il San Paolo Non me l'aspettavo tutto, ma aspettavo forché questa cosa E mi ha lasciato, vi dirò la verità Senza parole, senza parole Tra l'altro, a questo punto inizio a pensare che i giocatori del Napoli si siano rincoglioniti tutto insieme Tutto insieme, abbiamo avuto un rincoglionimento generale Tutto è qua in zucca Perché fino adesso ti dicevamo, vabbè, ma a fine il Napoli sta facendo male perché gioca contro il Mister Perché comunque il Napoli è forte, mica farebbe così se giocassi seriamente Va bene? Oggi ragazzi c'è il gol del 2-1 del Parma Cioè se io fosse un tifo del Napoli avrei squaiato vivo qualcuno Il gol del 2-1 del Parma Cioè tu stai attaccando Tu stai attaccando Stai cercando di fare il gol del 2-1 Un rilancio brutto Un contropiede, quello lì che non so chi fosse Che insomma i commentatori hanno detto due volte tipo Eh guarda che brutto, questo brutto scivolone Eh questo scivolone No ma dimmi chi è Forse Zielinski, non lo so, non ho capito chi fosse Scivoli due volte E poi dietro la cosa imbarazzantissima È che praticamente hanno fatto Gervinio, Gervinio, Gervinio e gol di Gervinio E va bene Ma la cosa imbarazzantissima è che erano praticamente due contro i tre difensori del Napoli Che ci sta come contropiede, ci sta assolutamente Però erano tre quelli del Parma Ma uno stava a monculo a sinistra Non se lo so proprio filato Cioè Gervinio tiene il pallone E i due attaccano Gervinio Gervinio scarica su Kuluseski E i due attaccano Kuluseski Kuluseski sta a ridare a Gervinio E i due attaccano Gervinio Ma volete rimanere sui giocatori? Uno sciame di Vespe Che correva presso al pallone E poi ovviamente Gervinio che non è nato ieri Anche se poi i piedi dritti non ce li ha Però scarso non è Insomma la metto dall'altra parte E la butta dentro E fa E fa due a uno Io raga Sono rimasto senza parole Tra l'altro il Parma Si era messa pure male per il Parma Che gli si era rotto Cornelius Non è che sto a parlare di Suarez Però le punte Gli si rompono tutte Non c'è nessuno che tiene sulla squadra Il problema si poteva anche porre Però ovviamente Il Parma non è una squadra Cioè il discorso che è che Il Parma non è una squadra Che punta tanto sull'attaccante Per tenere sulla squadra Bensì parte in contropiede Che è proprio quello Il modo di giocare del Parma Quindi si poteva essere importante L'attaccante fa comodo Però relativamente per il gioco di D'Aversa Vabbè fatemi sapere la vostra Con un commento qua sotto Iscrivetevi al canale Mi raccomando iscriviti 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 Qualora tu non l'abbia già fatto Grazie per aver visto questo video Buonasera all'alene come sempre Ci vediamo in un prossimo video